Musica Pescatore trovato morto nel fiume Metauro a Fano, indagano i carabinieri. Le marche in zona gialla anche la prossima settimana ad Acqualagna, troppe classi in quarantena, il sindaco firma l'ordinanza per sospendere la didattica in presenza, contagio in rialzo, anche a Fossombrone si rischia l'arancione rafforzato. Droga, guida in stato di ebrezza e ordini di carcerazione per furto e occultamento di documenti contabili, carabinieri di Fano arrestano tre persone e ne denunciano altre sette. Musica Scontro tra un furgone e uno scooter in strada delle Marche a Pesaro, ferito il centauro trasportato all'ospedale San Salvatore. Musica Operai in quarantena e lavori in ritardo, società autostrade ha chiesto più tempo per installare le barriere Fono assorbenti a Fano, rimane chiuso per un'altra settimana il tratto che collega la Flaminia a Belgazio. Chi rimane in città e chi organizza una gita fuori porta dopo il lockdown dello scorso anno, Fanesi e i turisti sono pronti per il primo fine settimana di maggio. La destinazione in alcune famiglie, la parola, la parola, passa ai più piccoli. Dove preferite andare? Io voglio dare un gelato con la mia mamma. Una serie benvenuti al nostro telegiornale, apriamo con una tragica notizia. Un uomo è stato trovato morto lungo il fiume Metauro, all'altezza del ponte Metauro. Si tratta di un pescatore di mezza età, si presume sui 50-55 anni. Si era recato sul posto in sella una bicicletta sulla quale aveva lasciato i suoi vestiti. Infatti il cinquantenne indossava una muta quando è stato ritrovato senza vita. Inoltre è stato rinvenuto un retino e attrezzatura da pesca. L'allarme era stato lanciato nel pomeriggio da un passante che si trovava in quella zona a passeggio con il cane. Tutta la catena di soccorsi si è attivata rapidamente. Sono scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco di Fano in supporto alla squadra fludiale di Pesero che ha utilizzato anche un gommone per scandagliare le acque. Una volta individuato il corpo sono partite le operazioni di recupero della salma, poi portata a Riva. Sul posto anche la polizia locale, il 118, che non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Indaga la compagnia dei carabinieri di Fano, comandata da Massimiliano Papale. Ora i militari, oltre all'identificazione dell'uomo che era senza documenti, dovranno far luce sull'accaduto. Si presume che possa aver avuto un malore. Le Marche rimangono in zona gialla anche la prossima settimana. Intanto il sindaco di Acqualagna ha firmato un'ordinanza per prorogare la chiusura delle scuole. I contagi preoccupano anche il primo cittadino di Fossombrone che lancia un appello alla responsabilità. Si è stabilizzata la curva epidemiologica nelle Marche, i ricoveri sono in calo e l'indice RT rimane sotto l'uno. La cabina di regia ha deciso di lasciare in fascia gialla la nostra regione anche per la prossima settimana, mantenendo quindi le norme anti-Covid meno restrittive. Tre comuni però rimarranno in zona arancione rafforzato fino al 4 maggio compreso, Valefoglia, Montelabate e Cerretodesi. Preoccupano i contagi anche ad Acqualagna, uscita domenica scorsa dalla microzona rossa. Il sindaco Luca Lisi ha prorogato fino all'11 maggio la sospensione dell'attività scolastica in presenza. La settimana che va dal 19 al 25 aprile, ha spiegato il primo cittadino, Acqualagna è rientrata nei parametri e ciò ha comportato l'inserimento nella zona gialla. Tuttavia nel frattempo sono state messe in quarantena sei classi e per quattro di esse la quarantena è stata attivata sabato scorso. E' accaduto poi che alcune docenti, avendo fatto sostituzioni in quelle classi, sono state a loro volta messe in quarantena. Questo ha comportato la difficoltà a garantire l'attività didattica in presenza. Non sono state chiuse le scuole, ha precisato il sindaco, ma è stata attivata la DAD e intanto si procede con la sanificazione degli ambienti. La proroga della sospensione è dovuta anche al fatto che i tamponi molecolari, cui dovranno essere sottoposti sia gli alunni che i docenti, sono previsti nelle date del 29 aprile, 4 e 7 maggio. L'esito potrebbe arrivare anche qualche giorno dopo e quindi ad oggi la scuola non è in grado di conoscere con certezza se avrà la presenza fisica degli insegnanti per garantire le lezioni in presenza. Il provvedimento preso, condiviso con Asur e diregenza scolastica, è quindi un intervento necessario, ha concluso l'ISI, sia per motivi di gestione organizzativa, sia per evitare ulteriormente la diffusione del Covid. E il virus preoccupa anche il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci, che ha aggiornato i cittadini tramite la pagina Facebook. Purtroppo i numeri continuano ad aumentare rapidamente, ha scritto in un post, e il timore che la regione possa adottare misure restrittive a livello locale diventa sempre più concreto, Ad oggi le persone in quarantena sono 114, 10 in più in 24 ore, mentre i positivi sono 60, ieri erano 44. Il sindaco poi ha lanciato un appello ai cittadini chiedendo di rispettare le regole e di usare la testa, perché c'è in ballo la salute. I controlli ci sono, ha assicurato Bonci, e di recente un locale è stato sanzionato e costretto a chiudere per 5 giorni per aver violato l'enorme anticontagio. Abbiamo davanti due giornate di festa, ha concluso il sindaco, dove anche il meteo potrebbe essere finalmente clemente. Approfittiamone per svagarci, ma facciamolo in modo responsabile. Sono 5 decessi legati al covid registrati nelle Marche nell'ultima giornata. Tra le vittime anche due uomini di 75 e 79 anni, rispettivamente di Fossombrone e Pesaro. Invece i positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 330. Un terzo dei contagi sono in provincia di Pesaro Urbino, che continua ad essere la più colpita. Negli ospedali della regione ci sono 14 ricoveri meno rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva scendono a 67, mentre in subintensiva c'è un paziente in più, per un totale di 130. Ammontano a 2,7 milioni di euro i ristori nazionali destinati alle attività dei compressori scistici delle Marche danneggiati dall'emergenza covid-19. Gli indennizi sono previsti anche per i gestori degli impianti, le scuole e i maestri di sci. Lo comunica l'assessore Guido Castelli. La regione provvederà a definire criteri e modalità di assegnazione per poi procedere all'erogazione dei contributi. La cronaca con diverse operazioni portate a termine dalla compagnia Carabinieri di Fano, che ha portato all'arresto di tre persone e alla denuncia di altre sete. Tra i reati contestati, furto aggravato, droga e guida in stato di ebrezza. Tre arresti e sette denunce. E' questo il bilancio dei controlli a largo raggio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Fano nel corso di un servizio straordinario di monitoraggio del territorio. Un 43enne della provincia di Viterbo è il risultato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti e occultamento di documenti contabili. L'uomo è stato portato nel carcere di Pesaro. Sempre su ordine di carcerazione, una trentenne di cartoceto è stata posta ai domiciliari per furto aggravato, mentre un 42enne di Marotta è stato condotto nel carcere di Villa Fastigi per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità materiale. Una fanese di 22 anni invece è stata controllata in compagnia di altri tre coetanei in via Fratelli Zuccari, in località Baia Metauro. La ragazza è stata trovata in possesso di 13 grammi di marijuana, mentre un giovane ventenne di cartoceto è stato trovato in possesso di 4 grammi di sostanza stupefacente e tutto l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Entrambi sono stati denunciati. I carabinieri poi hanno sorpreso un fanese di 46 anni a bordo di una BMW X3, in evidente stato di abbrezza alcolica. Il mezzo procedeva a zigzag lungo via Roma, inutili i tentativi dell'uomo di giustificarsi, così come inutile è stato il rifiuto a sottoporsi all'alcol test. Una condotta con la quale viene applicata la massima delle sanzioni, oltre al ritiro della patente e al sequestro del mezzo. Infine, un giovane forsempronese di 31 anni, dopo essere uscito fuori strada con la sua Mazda 3 a Pian di Rose di Sant'Ippolito, è andato a sbattere contro un camion in sosta. Anche per lui, tasso alcolemico sopra il limite. La patente gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo. Entrambi sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza. In più, sono scattate le multe Covid. Essendo stati sorpresi ben oltre, il limite serale stabilito dal coprifuoco. Un incidente è accaduto questa mattina intorno alle 7 in strada delle Marche a Pesaro. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un furgone Fiat Iveco, condotto da un uomo di 49 anni e residente in provincia di Vibo, Valencia, e uno scooter guidato da un 37enne. Entrambi stavano percorrendo la strada statale 16 ed erano diretti dal centro di Pesaro verso Fano. Quando il conducente dell'autocarro che precedeva il motociclista ha svoltato a destra, si è verificato lo scontro. Ad avere la peggio è stato il centauro trasportato dal 118 al pronto soccorso del San Salvatore. L'uomo non sarebbe in gravi condizioni. Invece la dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti, ma i disagi sono stati limitati, anche dal fatto che alcuni vigili urbani, che si stavano reccando al lavoro, si sono trattenuti sul posto per agevolare la circolazione con senso unico alternato. La politica Giorgia Meloni oggi ha fatto tappa nelle Marche. è la leader di Fratelli d'Italia. Nella piazzetta della Torre Anumana si è detta fiera del buon governo dell'amministrazione regionale, guidata da Acquaroli da poco più di sei mesi. Io sono estremamente fiera del lavoro del Presidente Acquaroli e tutta la Giunta, il Consiglio hanno fatto in questi sei mesi, perché mi pare che siamo in un'ora di parlare. Le Marche sono la prima regione per numero di vaccinazione in Italia, sono una delle primissime regioni che ha attivato, ad esempio, l'assistenza domiciliare e la vaccinazione a domicilio. Una delle proposte che Fratelli d'Italia in tema di lotta al Covid fa praticamente da aprile dello scorso anno. Abbiamo mantenuto l'impegno di bloccare l'iter della riforma sanitaria, che era stata fatta dalla finestra, che portava agli ospedali unici, che aveva già fatto chiudere diversi ospedali in pochi anni. Sul tema del turismo venimmo qui a dire che una regione che vantava questi scorci scontava purtroppo il fatto che non si fosse creduto nella sua capacità di attrarre turismo. E al poi il tema delle infrastrutture, forse la più grande questione per le Marche, è il lavoro che il Presidente Acquaroli ha fatto sull'intermodalità tra il porto, l'aeroporto, l'interporto. Sono delle infrastrutture vicinissime tra loro, che chiaramente con un'adeguata collaborazione possono fare delle Marche, un hub nazionale, internazionale e europeo. E questo è anche oggetto di una diatriba tra noi e il governo sul tema del PNRR, per quello che riguarda il porto di Ancona. Noi siamo venuti a dire che le Marche avevano delle grandi potenzialità inespresse e mi pare che su quei temi si sia lavorato con una grande velocità e con una grande capacità in pochissimi mesi. Quindi sono molto fiera del lavoro fatto da Acquaroli. Le polemiche mi interessano poco, perché è normale che l'opposizione le faccia, insomma, considero la cosa più normale del mondo e mi pare che qui di appigli ce ne siano anche oggettivamente pochi. Beh, diciamo, innanzitutto fa molto piacere, perché vedere la vicinanza di chi comunque ha creduto in me e in noi sei mesi fa oggi certifica il fatto, e in questi mesi certifica il fatto, che non siamo soli, che camminiamo anche con il sostegno morale, politico di chi ha creduto in noi all'inizio. Per noi è una certificazione, per noi, per me, è una certificazione molto importante. Ringrazio l'onorevole Meloni, perché, il Presidente Meloni, perché nei suoi interventi, anche sulle radio, sulle televisioni, spesso accende un faro, racconta quello che facciamo, e per una piccola ragione come la nostra, che molto spesso era ai margini delle dinamiche nazionali, essere riscoperti, valorizzati, è per noi veramente un grande avvento. E torniamo a parlare del tratto delle opere compensative alla terza corsia della 14, in particolare del tratto che collega la famiglia Belgatto di Fano, perché i lavori non si sono conclusi oggi, come da programma, Società Autostrade ha chiesto al Comune un'altra proroga. Avevamo autorizzato Società Autostrade, con le varie ditte, a fare dei lavori fino al 30 di aprile, per sistemare le barriere fonoassorbenti, che fungono anche in alcune situazioni da barriere di sicurezza, nel tratto che appunto va dalla caserma dei Vigili del Fuoco fino al Belgatto, e quindi in direzione centro verso la periferia. Dovevano finire questi lavori entro il 30 aprile, e ci hanno chiesto una proroga. I lavori sono fatti dalla Società Autostrade, su una strada che ancora non ci è stata formalmente consegnata. Purtroppo c'è stato un problema con la ditta specializzata che appunto si occupa del montaggio di queste strutture, perché la squadra che se ne occupava, che era a Fano da qualche tempo, nell'ultima settimana è stata in quarantena, anzi, nell'ultime due settimane è stata in quarantena, ci hanno chiesto una proroga, che noi ovviamente non potevamo fare altro che concedere, però abbiamo chiesto di chiudere i lavori entro la prossima settimana. Mi dispiace anche per il disagio creato a tante persone, tante auto, tanti concittadini che utilizzavano questa strada, e a dimostrazione anche del fatto che questa strada è utilissima per la città, come abbiamo sempre detto, per cui chiediamo un'altra settimana di pazienza, per colpe non nostre, ma che comunque crediamo che in una settimana, d'accordo con la Società Autostrade, questi lavori potranno finalmente concludersi e riportare questa strada nella piena funzionalità. La consegna della strada, poi formalmente al Comune di Fano, per tutto quello che ne consegue, dovrebbe avvenire nel prossimo mese di giugno. E adesso la festa dei lavoratori, se lo scorso anno gli italiani hanno trascorso il primo di maggio a casa a causa del lockdown, quest'anno c'è chi si è organizzato per delle gite fuori porta, altri invece preferiscono rimanere in città. Un pranzo o una cena al ristorante, ma soltanto all'aperto, passeggiate, visite ai musei o una gita fuori porta, ma se in un'altra regione, questa dovrà rientrare nella fascia gialla. È in arrivo il fine settimana, quello del primo maggio, che concede per le Marche due giorni di svago, ma tenendo sempre alta l'attenzione, perché i divieti e le restrizioni rimangono in vigore. Dove andrete domani? Allora, facciamo decidere ai bambini, quindi faremo quello che vogliono loro. Sentiamo un po', dove preferite andare? Io preferisco andare tipo a un lago, fare il picnic con tutte le mie amiche. Bello. E tu? E io mangiare un gelato con la mia mamma. Primo di maggio credo che prenderò la macchina per andare a vedere uno dei nostri borghi nelle immediate vicinanze di Fano, che so io, Cartoceto, Saltara. Anche il nostro territorio offre tante bellezze. Senz'altro, bisognerebbe anzi promuoverlo e varulizzarlo, perché ci sono dei paesini abbarbicati sulle colline oppure proprio sul Cucuzzo, che vale veramente la pena. Anche domani in bicicletta? Certamente, siamo in area camper con il nostro camper, veniamo da Verona. Il bello di andare a quel camper è quello che poi con le bici vai a visitare i vari paesi dei dintorni. E dicevate domani Senigallia? Domani Senigallia, esatto. Andiamo in bicicletta, solo in bicicletta. Soprattutto in bicicletta, sì, perché è bello andare a visitare anche i paesi più vicini, insomma. Domani dove andrete? A Torrette, alla spiaggia di Torrette, ma così solo per una scampagnata veloce. Con i familiari o in compagnia di amici? No, con i familiari. È venuta mia sorella da Milano, quindi passeremo mezza giornata lì. Da quanto tempo non vi vedevate? Da luglio dell'anno scorso. Ah, da luglio dell'anno scorso, sì. Un anno, sì, sì, sì. Sicuramente a casa, siamo fuori per poco, mezz'ora come carcerati e basta. Vi sentite ancora non molto sicuri con questi contagi? Vi preoccupano un po'? Non sono i contagi, sono le persone che non mi danno sicurezza, perché ognuno fa quello che vuole e credono che ci sia via libera per tutti, invece non è così, bisognerebbe osservare le regole. E c'è fermento anche negli stabilimenti balneari che si preparano ad accogliere, dopo tanti mesi, i primi clienti della stagione. Noi saremo ufficialmente operativi dal 3 maggio, comunque sia ci saranno i colleghi già da qualche settimana, ma anche domani, i prossimi giorni, per ultimare i lavori. Quest'anno, dopo un paio d'anni, siamo riusciti a mettere a posto anche la piscina e abbiamo rifatto il campo da beach con sabbia nuova. Adesso aspettiamo che spianeranno la spiaggia per poter posizionare gli ombrelloni. Si parte, siamo carichi, siamo tra l'altro una nuova gestione, siamo tre famiglie che ci siamo uniti in questa avventura. Speriamo di fare bene, siamo carichi. E per domani a Fano è stato confermato il mercato settimanale. Abbiamo accolto la richiesta degli ambulanti. Il primo maggio si svolgerà il mercato cittadino, così l'assessore alle attività produttive del comune di Fano, Etel Lucarelli, che va incontro alle esigenze di tanti operatori già fortemente penalizzati a causa delle chiusure e delle restrizioni legate alla pandemia. Infatti la permanenza prolungata in zona rossa non ha avuto ricadute soltanto sui baristi, negozianti e ristoratori, ma anche sugli ambulanti del centro storico. Un'opportunità di lavoro, ma nel pieno rispetto delle regole. Non mancheranno le garanzie sanitarie, affinché i cittadini possano acquistare nella massima sicurezza. Come sempre, ha spiegato Lucarelli, verranno mantenute le vie di ingresso e di uscita del mercato. La giornata del primo maggio è una giornata comunque particolare, ma abbiamo deciso che il mercato cittadino rimarrà, un confronto aperto con l'associazione di categorie, con gli operatori del settore, che hanno espresso la volontà giustamente di lavorare in questo difficile momento. Quindi abbiamo aperto un sondaggio anche tra gli operatori, quindi ovviamente la volontà di lavorare è ampia e sarà anche un modo, in un qualche modo, per avere un qualcosa in più da vivere anche nella giornata del primo maggio. Quindi sabato mattina il mercato cittadino si terrà come tutti i sabati normali. I benefici di questa decisione, ha proseguito l'assessore, si rifletteranno anche sulle altre attività del centro storico, che potranno beneficiare così di un maggior flusso di utenti tra le vie principali del perimetro urbano. Ora però è importante impegnarsi per sostenere chi invece non può lavorare all'aperto, per mancanza di spazi, e coloro che ancora non possono aprire per decreto. Innanzitutto devo dire che ci siamo attivati per far sì che quelli che hanno possibilità hanno fatto richiesta di spazi all'aperto, già dal 26 hanno potuto aprire. Noi abbiamo realizzato una commissione preposta che ha sburocratizzato molto le pratiche, ha dato la possibilità a tutti di lavorare. Rimane il problema di coloro che non hanno verande, che non hanno spazi all'aperto, che si trovano in luoghi dove spazi all'aperto non possono essere utilizzati. Ecco qui, ci stiamo facendo carico anche di sentire la regione e sentire l'istituzione a più ampi livelli perché credo che queste attività debbano avere dei supporti o comunque bisogna trovare il sistema di ristori perché in questo momento obiettivamente sono attività che non riescono a riprendere la loro normale attività. Ed è arrivato il no definitivo al progetto di allevamenti avvicoli fileni nel comune di San Lorenzo in campo. Dagli uffici della regione è stata presa la decisione definitiva sulla procedura di via, la valutazione di impatto ambientale richiesta dalle aziende. Come è ampiamente previsto, spiega il sindaco Davide Dell'Onti, la decisione finale è stata negativa. Per noi la vicenda era già conclusa nel 2019 quando a mezzo stampa avevamo detto chiaramente che avremmo negato la variante urbanistica ma poi i tempi della procedura complessa hanno procrastinato alla parola fine sino ad oggi. E ci spostiamo a Vallefoglia dove è stato presentato il nuovo portale della comune. Le informazioni sono disponibili in cinque lingue diverse e si racconta il territorio anche tramite i personaggi, i paesaggi, gli eventi e le eccellenze enogastronomiche. Il servizio di Filippo Pucci. Si chiama visitvallefoglia.it il nuovo portale turistico informativo realizzato dall'amministrazione comunale al fine di promuovere ai cittadini e ai turisti il territorio, le attività, il buon cibo e tutto ciò che anima la città. Una volta entrati nel sito si viene catapultati dentro al territorio grazie alle splendide foto scattate nei luoghi più caratteristici del posto. Nella barra di navigazione posta in alto è possibile scoprire le località attraverso antichi castelli e i borghi le attività e le esperienze attraverso percorsi itinerari e strutture ricettive infine gli eventi e il blog ovvero un contenitore con tutti gli approfondimenti e le ricchezze di Vallefoglia. Altro intento di questo portale si legge nella presentazione è anche quello di far conoscere i cittadini di Vallefoglia le origini e la storia della propria città. L'obiettivo è quello di avere una navigazione comunque semplice facile, facilmente comprensibile e che soprattutto mantenesse le persone interessate alla lettura perché comunque alcuni soprattutto gli articoli di approfondimento sono parecchio, insomma, approfonditi. Puntare, diciamo, ad un'offerta lavorativa diversa e quindi evidenziare le possibilità che ci sono qua per altri settori economici e intercettare anche i turisti che magari da Pesaro vanno verso Urbino. Durante la conferenza è stato presentato anche il nuovo logo. Suddiviso in tre parti l'opera vede l'inserimento in alto di Colbordolo e Sant'Angelo e Lizzola simboli della nascita della città il fiume Foglia contraddistinto dal colore azzurro mentre in verde vengono evidenziate le colline e l'agricoltura elementi caratterizzanti di questo territorio. Soprattutto un ringraziamento di Androle Quinte ma che poi alla fine è veramente davanti per tutti i fotografi che ci hanno inviato il materiale fotografico che appunto potete vedere che accompagna il piacere di scoprire questo portale e ovviamente anche tutti coloro che ci hanno dato la possibilità di seguire Alessandra per negli studi e approfondimenti insomma tutti quanti e chiunque abbia collaborato. E con l'approvazione in giunta la stipula della convenzione il comune di Terre Roveresche ha formalizzato per il triennio 2021-2023 la gestione della grotta ipogeo alla Proloco Piaggio un'associazione locale di volontariato che opera attivamente e da tanto tempo nel territorio. Nel dettaglio la convenzione non prevede soltanto la gestione dell'ipogeo bensì anche attività di promozione territoriale della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale l'organizzazione di eventi e mostre. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Paolo Giusto Luca Relli e Marta Gaggi di Mitauriglia di Fano che oggi festeggiano 55 anni di matrimonio quindi nozze di smeraldo per questa coppia. E vi ricordo che lunedì prossimo l'ospite di Primo Cittadino sarà Davide Dell'Onti il sindaco di San Lorenzo in campo potete vedere in questo cartello tutti i numeri di riferimento tra poco invece trasmetteremo una nuova puntata di Esplorare i confini del Circolo Bianchini dal titolo L'arte del Giappone e la pittura europea dell'Ottocento invece domani è primo maggio quindi ci fermeremo l'informazione tornerà lunedì mattina alle 7 con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri buon fine settimana arrivederci